Maltrattamenti perpetrati nel tempo e continue vessazioni, fino a quando dalle parole l'imputato sarebbe passato ai fatti, gettando benzina sugli effetti personali della compagna ed anche sul suo amico a quattro zampe. Ed affermando testualmente, così come documentato dalla denuncia, se non la smetti ti brucio casa e anche il gatto. Un trentenne di origine straniere residente a Biella è stato quindi rinviato a giudizio dal giudice dell'udienza a preliminare, per avere maltrattato la sua convivente. Ad aggravare ulteriormente la sua situazione, il fatto che non avrebbe ottemperato ad un decreto di espulsione nei suoi confronti. Il rapporto con la donna si era sempre più incrinato, fino a quando, stando a quanto dichiarato dalla vittima all'apice di un momento di ira, l'indagato aveva cosparso gli oggetti personali della compagna di liquido infiammabile, minacciando di bruciarle la casa e persino il suo gatto. Queste le accuse alle quali dovrà rispondere in udienza.